con quel caso di che partiti di sito non li chiedi, non li chiedi non li chiedi non li chiedi se, chi è? se, se oh, si aspetta un po' le casse ma il fungiorino e i locardi gli vedi con quei beligli ma non ha tant'uno mai e non ha quei beligli sto per te, per te per te e non è mai amici scusate che buon venga si ci dà un po' se ci dà un po' se ci dà un po' se ci dà un po' 10 ci dà un po' e ci dà un po' e ci dà un po' uno mi dice una cosa mi dice una cosa dai a chi 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 ah no che è più bassur però e poi C'è una che è il secondo raso che siete, il raso dei delinquenti.